di quelli che fuggono da Renzi e mettevano al primo posto Pippo Civati tra i primi fuggitivi. Buongiorno, bentrovato, poi mi racconterà cosa pensa di quello che è successo in Sicilia, perché anche unite le due liste di sinistra. Ma perché bisogna unirle queste due liste? Sono diverse, sono due progetti diversi. Andiamo a vedere chi ha eletto quella lista che non è la nostra, così vediamo anche come è composta. Cioè quella di Micari, non solo ha perso ma ha eletto brutte persone. Mi sembra di centro-centrodestra a occhio, sono tutti esponenti che provengono dalla stagione del cuffarismo. Ma non le pare che se non vi unite perdete? Il lombardismo? Se non vi unite perdete però, no? No, non lo so, bisogna capire anche per fare che cosa, però, perché se io devo vincere le elezioni per fare il contrario di quello che penso è meglio che non le vinca. Risulta che Lombardo fosse con Musumeci, però non lo so poi... Beh, ma guarda... Io non ho capito niente della lista che sono con Musumeci e Micari. Mi sono tutti gli eletti in buttafuoco, mi sono a memoria. Non c'è un elemento? Sì. No, obiettivamente un capovolgimento c'è stato, nel senso che, per esempio, il Partito Democratico e Micichè può dare le misure esatte... Ecco, perché è arrivato Gianfranco Micichè da Palermo, grande vincitore nella partita siciliana. Buongiorno, ben trovato Micichè. Buongiorno, Milta, intanto complimenti per i risultati di ieri. Grazie, grazie mille. Il Partito Democratico, nella provincia di Palermo, dove sfoderava i vertici, i campioni assoluti, Faraone, Cracolici, il mitico senatore Lumia, ha racimolato l'8%, chiaro? Mentre invece, quelli che hanno avuto dei risultati lussinghieri, per esempio nell'area del Catanese, dove comunque c'era la presenza dei musumeci, sono i cosiddetti cavalli di razza, delle grandi preferenze, i grandi numeri, tutti ex PDL, tutti ex di centrodestra. Questa è una massa di cinque, quella è una massa di cinque, quella è una massa di